Elena, ti annuncio una grande gioia, questo è il titolo del nuovo ciclo dei martedì del Vescovo di Avvento, qual è il programma? Sì, ti annuncio una grande gioia, è appunto la notizia sconvolgente che ha squarciato la notte dei pastori ed è lo stesso annuncio che vuole raggiungere tutti i giovani modenesi in questo nuovo cammino dei martedì del Vescovo di Avvento che per la prima volta sarà guidato appunto dal Vescovo Aereo che è stato proprio inviato a noi come collaboratore della nostra gioia. Inoltre una specificità di questo nostro cammino che inizia alle porte dell'anno giubilare sarà quella di accompagnare ogni tappa del cammino con un'opera di misericordia che sarà presentata attraverso un'opera d'arte riletta in chiave giovanile. Il nostro itinerario partirà appunto martedì primo dicembre presso la chiesa di Santa Caterina con la domanda che Maria rivolse all'angelo, come è possibile? E appunto il Vescovo Aereo raccoglierà questa domanda insieme a tutte le altre domande che sono custodite nel cuore dei nostri giovani per indicarci la strada verso la grotta di Betlemme. Il nostro cammino verso l'Avvento, verso il Natale, si intreccerà poi con il cammino dei giovani verso la GMG di Cracovia grazie al passaggio dell'icone del crocifisso di San Damiano e della Madonna di Loreto che saranno consegnate poi dai giovani italiani alla chiesa polacca. In una vera e propria staffetta queste icone stanno attraversando tutte le diocesi italiane e arriveranno a Modena presso la Casa della Carità di Cognento e ci saranno consegnate dai giovani della diocesi di Rovigo per fare tappa poi e approdare al martedì del Vescovo presso la chiesa di San Faustino il 15 di dicembre. In quell'occasione sarà presente con noi Don Michele Falabretti responsabile nazionale del servizio di pastorale giovanile che ci introdurrà al tema del pellegrinaggio appunto seguendo i passi di Maria che in fretta si mise in viaggio. Infine a un passo dal Natale martedì 22 di dicembre presso la cattedrale i giovani potranno lasciarsi toccare e abbracciare dalla misericordia del padre vivendo la liturgia penitenziale preseduta dal nostro Vescovo Erio. Veniamo dal convegno di Firenze tu sei stata lì in prima linea ecco raccontaci un po' la tua esperienza. Innanzitutto con il cuore veramente colmo di gioie e gratitudini per questo dono per questa esperienza desidero ringraziare perché veramente abbiamo vissuto a Firenze un'esperienza ecclesiale che ha visto i nostri pastori insieme al popolo di Dio protagonisti di un nuovo cammino sinodale che ci ha riuniti intorno alla presenza del Signore alla sua parola e che ci ha portati ad ascoltare le parole del Santo Padre che ci ha invitato ad essere una chiesa gioiosa, una chiesa in uscita, una chiesa coraggiosa in questo nuovo nostro mondo per appunto uscire, educare, abitare e trasfigurare questo mondo con l'annuncio del Vangelo. In modo speciale poi desidero ringraziare per l'occasione che mi è stata donata di incontrare il Santo Padre, Papa Francesco, in un modo personale, davvero un dono che custoderò nel cuore e insieme a questa stretta di mano e insieme a questo abbraccio custodirò anche questo suo sguardo intenso che si è rivolto verso l'altro nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore per ammirare con stupore e meraviglia Lecce Omo, il dipinto sovrastante che ci rimanda davvero e ci indica Gesù come il compimento, come la meta della nostra piena umanità. Gesù come il compimento, come la meta della nostra piena umanità.